E' stata un'esperienza bellissima, siamo venuti qui a incontrare nuovi operatori, oggi quelli del turismo sociale, siamo aperti a tutto, insomma aspettiamo numerosi turisti nella nostra amata Sorrento. Abbiamo tanto da offrire, ma tutti conoscono Sorrento. L'obiettivo è farla conoscere a quei pochi che ancora non ci hanno raggiunto e che ci auguriamo presto riospitare nella nostra bella terra. Ciao a tutti.